Qualche giorno in più di un anno fa l'intelligenza americana cominciava a profilare un'incredibile a quell'epoca invasione russa all'Ucraina, spiegando anche con domizioni particolari che l'intenzione dell'invasore russo sarebbe stata quella di conquistare Kiev in poco tempo con una guerra lampo, un blitzkrieg in un lessico che nel Novecento abbiamo ben imparato a conoscere non solo nei termini di guerra ma che poi è sfociato anche nel pop, penso alla musica punk dei Ramon Sebbene è incredibile che oggi, un anno dopo, dopo tutta questa devastazione, siamo qui a parlare di uno scenario opposto è l'Ucraina che crede che in poco tempo, questo fa sapere, questo trappila dai giornali di oggi si possa risolvere il conflitto a suo favore, di tutto questo parlano oggi i giornali, parlano soprattutto di un incontro importante a sorpresa del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che è andato ad abbracciare anche fisicamente Zelensky, oggi peraltro ci riguarda il tema alla vigilia dell'anno del conflitto, c'è la visita di Giorgia Meloni proprio a Kiev, la visita annunciata di tutto questo parlano i giornali ma ne parlano appunto quelli nazionali e internazionali come quelli locali, invece i toscani parlano di una novità molto importante sugli asili finalmente, una novità che riguarda coloro che hanno un'ISE inferiore ai 35 mila Euro ebbene parleremo di tutto questo ma parleremo anche di temi importantissimi che si legano a quelli che spesso affrontiamo sulla sostenibilità, sulla progettazione perché avremo un ospite importante oggi con cui ci potremo confrontare su questo, un ospite che viene da questo territorio ma che certo una bella fettina di mondo l'ha vista, non vi voglio anticipare altro, lo facciamo qui oggi a prima di tutto questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio Grazie a tutti Buongiorno, buongiorno di nuovo da prima di tutto, benvenuti alla puntata numero 100 di questa stagione, colgo l'occasione per ringraziare TV Prato, oggi rappresentata dal regista Sandro Pettorali qui in studio, noi miester romani, andiamo subito sulle notizie di oggi, partiamo dal Corriere della Sera, Biden a Kiev, eroi Putin fallirà, questo è il titolo scelto dal giornale diretto da Fontana, visita sorpresa, si legge nel catenaccio informato il Cremlino, la telefonata con la Premier, ira di Mosca attesa per il discorso dello Zar che sapete ci sarà oggi, l'abbraccio con Zelensky invece nel sottotitolo della prima pagina del Corriere oggi arriva Meloni, ieri la nostra Premier è stata in Polonia e appunto si racconta nel Corriere del sostegno a 360 gradi dell'Italia promesso dalla Presidente del Consiglio, ci sono diversi approfondimenti, abbiamo Lorenzo Cremonesi, Monica Guerzoni, Marco Imarisio, Guido Santevecchi che raccontano sul Corriere da pagina 2 a pagina 7 tutte queste visite e queste anche evoluzioni del conflitto, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione dell'Ucraina il Presidente americano Joe Biden, visita Kiev, viaggio annunciato a Mosca, si legge fra parentesi anche se lo diciamo subito, è stato annunciato con pochi minuti di vantaggio sui sovietici, si sono molto dirati per questo, è stato chiesto di fermare qualsiasi ride proprio perché il Presidente sarebbe andato a Mosca, ovviamente l'atto simbolico, lo capite tutti, è molto rilevante, l'incontro con il leader ucraino appunto Zelensky, l'omaggio alle vittime della guerra, missioni in Polonia della Premier Giorgio Meloni, poi la telefonata con Biden, altre notizie sul Corriere della Sera le approfondiremo fra poco ma ora facciamo subito il confronto con quello che scrivono gli altri giornali nazionali, ad esempio Repubblica, c'è una fotonotizia gigante che campeggia su tutta la pagina, sfida a Putin e si vedono appunto i due leader americano e ucraino insieme, Joe Biden che si prepara anche a ricandidarsi come ben sapete alle prossime presidenziali in cappotto, occhiali scuri e cravatta e invece Zelensky con la sua, lo dico per coloro che ascoltano il podcast su Spotify e non possono vedere la foto, con la sua solita mimetica vestito con questa tutta militare, appunto visita sorpresa e vediamo ancora qua c'è l'inviato Paolo Brera che racconta anche in maniera con dovizia di particolari quanto è accaduto, vi segnalo a pagina 28 sempre della Repubblica l'anticipazione di appunto Bernard Rilevy, il conflitto che spezza la storia, un anno di guerra, un anno di incendi, chiese, scuole bombardate, decadenza di corpi, anime, orrore, un anno anche di resistenza ed eroismo, un articolo molto interessante, ma andiamo a vedere con ancora maggiore approfondimento quelle che sono state le pagine che voglio segnalare per voi, ad esempio dall'interno del Corriere questo articolo a pagina 5 molto interessante, la propaganda spiazzata e furiosa, avremmo anche potuto, scusate, avremmo anche quindi con due M potuto ucciderlo, è un articolo di Marco Imarisio appunto che racconta la reazione russa che trovo molto interessante, potremmo ucciderlo? Sullo schermo scorrono le immagini in diretta di Joe Biden e Volodymyr Zelensky che si abbracciano, la scaletta giornaliera di 60 minuti, insomma avete capito bene, si parla di quel programma televisivo di propaganda definito anche, insomma giustamente che va in onda ogni giorno in Russia e che racconta anche quella che è la visione sovietica del conflitto, va a farsi benedire dice appunto Imarisio la scaletta, Olga appunto scabe Ieva, astronascente della propaganda, ha un attimo di esitazione, forse sarebbe un po' troppo, aggiunge rispetto alla prospettiva di uccidere Biden, gli ospiti del salotto pomeridiano in onda appunto annuiscono, scusate, non troppo convinti, vabbè sarà un'altra volta aggiunge uno di loro, sarà per un'altra volta aggiunge uno di loro e quindi c'è proprio addirittura questo tipo di propaganda e vi invito a leggere questo articolo che vi fa capire qual è anche il nervosismo che si respira dalle parti di Mosca, super bonus sempre dal Corriere della Sera, mentre torneremo appunto con la guerra su altri giornali, però prove di compromesso, era importante segnalarvi questo articolo di Andrea Ducci che spiega come la cessione dei crediti potrebbe riaprirsi per i redditi bassi, più tardi riparleremo di redditi bassi con gli asili nido gratis che sono una misura che la regione toscana ha annunciato ieri, comunque questo era quanto vi dovevo rispetto al super bonus. Andiamo sulla politica, sempre sul Corriere, più concreti, più a sinistra, Stefano e Delli al confronto TV, cosa succede? Che come tutti sapete Stefano Bonaccini e Elislein si sfideranno questa domenica nelle urne dei gazebo delle primarie aperte per la nuova guida del Partito Democratico, ieri c'è stato su Sky TG24 il primo e ultimo confronto in diretta, fra i due, vedremo se ce ne sarà un altro, ma sembrerebbe che questa sia l'unica occasione almeno televisiva di confronto, poi saremo pronti a raccontarvi evidentemente altri scenari, però c'è stato questo confronto a dire il vero che abbiamo seguito per voi, non proprio pieno di colpi di scena, fair play e pochi attacchi, infatti scrive Roberto Gressi, ma sui migranti a Ucraina le differenze si sono viste e ovviamente sapete quali sono, se avete seguito questo programma e avete letto i giornali in questi giorni, è chiaro che sui migranti Elislein vorrebbe una linea più dura rispetto al comportamento che l'Italia sta tenendo, vorrebbe maggiori garanzie anche da parte del PD, è anche una condanna più pronunciata rispetto a ciò che è accaduto in passato, a specie riguardo agli accordi con la Libia, c'è stato un piccolo screzzo con Bonaccini e anche sull'Ucraina ovviamente ci sono le differenze perché la parola pace come abbiamo imparato a capire in questi giorni può essere declinata in molti modi diversi, tutti capite, mi sto riferendo all'invio delle armi, trema ancora la terra in Turchia, crolli e vittime, abitanti in fuga, questo ve lo dovevamo segnalare per questo disastro immane che è successo, ma la notizia che volevo segnalarvi nella stessa pagina del Corriere è questa, molto interessante, ovvero pagina 16 Stefano Montefiori che scrive da Parigi, una città che tra poco magari affronteremo anche in maniera più compiuta con il nostro ospite che passa molto tempo in quella città nonostante sia pratese, ebbene questa è una notizia che riguarda tutti noi e la rete, la sera del 13 novembre 2015 Noemi Gonzales, 23 anni, dice il corrispondente appunto da Parigi del Corriere, si era dato appuntamento con alcuni amici americani e francesi ai tavolini del Carrion, il bar all'incrocio tra le vie Bichat e Alibert, nell'est di Parigi ovviamente, figlia di immigrati messicani di Whiter, vicino a Los Angeles, la prima della famiglia ad andare all'università, Noemi stava per finire i suoi sei mesi di scambio studentesco in Francia e a febbraio, ci racconta a Montefiori, la ragazza sarebbe tornata in California per laurearsi in design, alle 21.25 dopo le esplosioni allo Stade de France, la seconda cellula dei terroristi dello Stato Islamico entra in azione e spara sui ragazzi seduti fuori dal bar, ve lo ricorderete, poche ore dopo la madre Beatrice riceverà la notizia nel suo salone di parrucchiera a Whiter, Noemi è stata uccisa ed è l'unica vittima americana degli attacchi, degli attentati al Bataclan, come ricorderete e anche ai ristoranti lì attorno, nelle settimane e nei mesi successivi e questo che vi voglio far notare, questo è quello che scrive Montefiori, il mondo ha cercato di capire la natura dello Stato Islamico, come l'organizzazione reclutasse i suoi soldati come ragazzi nati e cresciuti in Belgio e in Francia potessero arruolarsi tra di loro, tra gli ambiti di indagini c'erano ovviamente internet e i social media e l'uso abile che ne hanno fatto prima Al Qaeda e poi l'ISIS o Daesh. Una ONG israeliana, Shurat Adin, che lotta contro il terrorismo ricorrendo a cause legali, ha proposto ai genitori di Noemi Gonzales, vi ricorderete la vittima di cui si parlava prima, di fare causa a Google, casa madre di YouTube, lasciando che lo Stato Islamico diffondesse i suoi video di propaganda sul sito e che poi l'algoritmo di YouTube li portasse in evidenza, Google si sarebbe resa responsabile di complicità involontaria con i terroristi, avete capito bene, è una causa legale molto complessa nei fatti, però è interessante capire ciò che ci sta dietro, come è interessante capire quello che accadrà dopo l'Australia e la Nuova Zelanda, dove Facebook, visto che parliamo di internet, ha messo a pagamento 11 dollari circa, se non ricordo male, la spunta blu che verifica l'identità, 11 dollari al mese ovviamente, contravvenendo a quella che era stata, ovviamente si parla di Meta, il gruppo Facebook, Instagram, diretto da Mark Zuckerberg, contravvenendo a quella che era stata la promessa, ve la ricorderete, di una quindicina di anni fa, saremo sempre gratuiti, siamo gratuiti e lo saremo per sempre, in realtà questo sempre si è infranto, questa promessa si è infranta, ma ne parleremo magari nei prossimi giorni un po' meglio. Andiamo velocemente su Repubblica per farvi vedere qualche altra notizia, Biden ha sorpresa Kiev, ne abbiamo già parlato, ecco il piano ucraino per la guerra breve, vi dicevo nella prolusione di questa trasmissione, vinceremo nel 2023, sarebbe appunto l'intelligence ucraina che fa trappellare queste notizie, ancora la Lega accende la partita delle nomine, Meloni tutti con noi su Eni ed Enel, vedrete che anche di questo parleremo molto nei prossimi giorni delle nomine. Un'altra notizia importante che voglio farvi vedere da Repubblica, in particolare si parla di città del Vaticano, appunto, Devolution Vaticana, così il Papa argentino ha svuotato la Curia, il 13 marzo di 10 anni fa, l'elezione di Francesco, la Corte e la Lebra, disse allora, ne ha fatto una propaganda di governo e appunto Jacopo Scaramuzzi racconta la città del Vaticano come proprio il Papa abbia nel tempo svuotato la Curia, dal punto di vista anche delle responsabilità, i fasti di Voitila, gli scandali dell'era Ratzinger, poi Bergoglio, appunto con Bergoglio una svolta fatta di piccoli passi dal metodo sinodale alla scelta di vivere a Santa Marta, come tutti sapete, il clima oggi è riconoscibile ma nel palazzo più di uno storce il naso, molto interessante questo articolo da città del Vaticano di Scaramuzzi che vi invito a leggere e passiamo molto velocemente ancora alle prime pagine dei giornali toscani, Corriere Fiorentino, Pestaggio al Miche, come i fiorentini chiamano il Michelangelo, il liceo davanti al quale è avvenuto l'aggressione nei giorni scorsi, assedio a Meloni, Gori e Innocenti ci raccontano come appunto 48 ore dopo non ci sia ancora nessuna condanna, poi la favola bellissima in fotonotizia raccontata da Noli di Samuele Ceccarelli che con appunto un tempo fantastico ha battuto nei 60 metri niente meno che è l'uomo più forte del mondo, ovvero Marcel Jacob, sapete insomma campione del mondo e anche campione olimpionico, anche Repubblica Firenze parla del Pestaggio al Michelangelo e ovviamente la Digos sarebbe sulle tracce di altri due aggressori, questa è la notizia che Serrano ci racconta oggi assieme a Di Maria e Vivaldi e poi qua in fotonotizia appunto il tema di cui vi parlavo prima, Asilinidio gratis per 10 mila famiglie, aiuto per i rally di sotto i 35 mila Euro, un articolo di Maria Cristina Carratù, andiamo infine a concludere la nostra rassegna con i due giornali pratesi, in particolare la Nazione di Prato e il Tirreno, il titolo principale dedicato a uno scontro fra ragazzi, caos nei giardini, appunto si parla di una lite molto violenta tra gruppi di giovanissimi in via Boito e anche ovviamente gli asili, nido, la ricaduta pratese che riguarda appunto 10 mila famiglie pratesi, ma ci sono altre notizie interessanti sulla Nazione, ce n'è una molto bella che va segnalata senza dubbio in un'epoca nella quale vi parliamo molto spesso della difficoltà che si vive al pronto soccorso di Prato, ebbene lotta ai tumori, stavolta una nota positiva arriva dalla sanità, l'ospedale è al top record mondiale di pubblicazioni sarabessi, ci racconta come l'oncologo Luca Malorni abbia già firmato 21 articoli sugli inibitori del carcinoma mammario positivo, sappiamo benissimo che al di là dei termini medici è una piaga che viviamo tutti i giorni, le nostre famiglie, i nostri amici sapete qual è l'incidenza dei tumori, specie anche dei tumori di questo tipo e la direttrice del reparto, Laura Biganzoli adesso sta coordinando uno studio clinico internazionale, qui ci sono gli approfondimenti a cura di Sarabessi. Per concludere il Tirreno di Prato, poi passiamo alla discussione sui temi principali con il nostro ospite che vedrete oggi, diciamo così, ha molte cose interessanti da raccontarci, ebbene la Firenze Mare si allarga, ci racconta Elena Andreini sul Tirreno di Prato, cosa succede? Che sono partiti i lavori per la terza corsia, ruspe in campo dopo anni di polemiche sugli espropri, si parla della Firenze Mare, della 11, chissà che non si alleggerisca il traffico su uno degli snodi che in Toscana crea, come tutti sapete, la maggior parte dei problemi di traffico, è davvero impressionante la molle di problemi che si annida attorno a questo, partono i lavori per la terza corsia, vedremo, c'è anche qualche previsione di durata per questi lavori, vedremo se veramente dureranno un paio d'anni, come si dice, l'alternativa verde è la ciclovia del sole, si parla appunto dell'attivazione del cantiere per la pista ciclabile Prato-Firenza, se ne parla da mesi oramai, la villa, il Loretino e i terreni sono all'asta per oltre 2,7 milioni di euro, un articolo di legne reali che parla appunto dell'edificio cinquecentesco, concludiamo con due notizie che riguardano la cronaca pratese, cassiere insultato, pratese si intende anche della provincia, appunto sindaco allibito, questi gesti ci appartengono, cosa è successo appunto che c'è una solidarietà del primo cittadino di Montemurlo, tutti sapete appunto essere Simone Calamai, dopo le offese razziste riguardo appunto a un cassiere che si chiama Diones che ha ricevuto offese proprio nel weekend, Alessandro Formichela ci scrive di questa solidarietà, parleremo con il sindaco di Montemurlo di tutto questo domani, che sarà ospite qui anche in qualità con la giacca di Presidente della provincia di Prato, però oggi senza dubbio dobbiamo parlare di Prato nel mondo e del mondo che si interseca comprato, lo facciamo subito dopo la pubblicità con Lorenzo Giorgi. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura, parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e pici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Era un colpo perfetto! Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui! Mi definivano abile, scaltro, infallibile! E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò! Potete stare tranquilli voi, comprato poi! Non è un caso che siano professionisti della sicurezza! Studi medici aesthetic medical care, nuova sede in via Udine 56 Nuovi servizi Gastroscopia da 115 euro Colonscopia da 145 euro TAC da 110 euro Mammografia da 80 euro Risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro Macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie Aesthetic Medical Care Ogni giorno, al tuo fianco Prato all'armi Siamo da 30 anni al vostro servizio Presenti su tutto il territorio E reperibili 24 ore su 24 I nostri impianti sono tutti certificati Prato all'armi Sicuro e meglio Siamo a Prato, in via Curtatone 16 Telefono 0574 25965 Martedì 21 febbraio Bentornati prima di tutto Bentornati alla seconda parte Quella dell'approfondimento Insomma, oggi per me è veramente un grande piacere Avere una persona che stimo molto, ma anche un amico Lorenzo Giorgi con noi Ciao, buongiorno Buongiorno Sarà difficile per me darle del lei Perché da tanti anni conosco la sua opera Anzi, poi magari parleremo di come è cambiata nel tempo Però oggi Lorenzo Giorgi è direttore Dopo averlo fondato, assieme ad altre persone Adesso ci dirà Di Global Impact Network Che è un'azienda che si occupa di molte cose Adesso spieghiamo perché Perché è interdisciplinare Ma soprattutto di aiutare a progettare Le aziende, i brand Quanto è importante oggi Saper progettare? Ma intanto grazie Grazie per l'invito Mi fa sempre piacere Tornare a Prato Perché di base vivo qua Poi sto un po' in giro per il mondo E poi non sono più abituato A lavorare qua a Prato E' importante Le ho chiedo subito Come si vede Prato da fuori In questo momento storico? Ma io sono comunque residente in centro storico Poi insomma faccio il pendolare con l'estero Si vede in maniera un po' affaticata O almeno io la vedo in maniera un po' affaticata Poi ha ancora degli spunti molto innovativi Degli spunti vivi Anche quando si fanno i paragoni con le altre città toscane Si sente una vibrazione Un sottobosco importante Però per essere sincero Io il centro storico lo sento un po' affaticato Un po' affaticato Dopo approfondiamo questo Parliamo un attimo di Global Impact Prima Che cosa vuol dire Che aiutate le aziende a progettare? Che insegnate le persone delle aziende a progettare? Ma guardi Quando è arrivato il Covid Faccio un passo indietro Abbiamo veramente dovuto decidere cosa fare da grandi Perché il Covid ci ha veramente rivoluzionato il mondo L'ha rivoluzionato in generale Poi alcuni mercati sono tornati stabili Altri sono tornati completamente trasformati Noi di base viaggiavamo in giro per il mondo Africa, Sud America Perciò è arrivato il Covid e si è bloccato tutto Congelato tutto Tutto Cioè si è bloccato tutto Si sono bloccati sia i viaggi e l'annessa logistica Ma si sono bloccati anche i fondi L'erogazione dei fondi per la progettazione estera Poi è arrivato l'avvio del PNRR Che ha prosciugato molti fondi per l'estero E si sono concentrati tutti su quel canale Esatto, sull'Europa Sì, e i fondi per l'estero sono diventati veramente una guerra Cioè accaparrarsi quei fondi Si è alzata la competizione in maniera importante Che da una parte sono aspetti positivi Dall'altra però quando hai un tessuto sociale Di NGO internazionali e nazionali Che vivono su quei fondi Può essere anche un drammatico cambiamento E allora lì abbiamo Si doveva decidere se morire o rilanciare Che avete fatto? Allora intanto abbiamo cercato di capire Come rimettere a sistema tutta la gestione In una decina di paesi E mandare avanti i progetti Dall'altra parte però non avevamo più un mercato Sicuro, internazionale E le aziende avevano paura a investire Sui progetti in cui investivano prima Cioè veramente le aziende erano impaurite Dalla sopravvivenza Impaurite da cosa stesse accadendo E ci siamo accorti che Non avevano le basi O mancavano molte basi Per unire la progettazione sociale All'innovazione Che spesso la si vede dal punto di vista Tecnologico Di business E economico Perciò insomma abbiamo detto Siamo progettisti Ci piace progettare Siamo designer E allora facciamo quello che ci piace Perché tanto se dobbiamo lottare Per stare in piedi con queste complessità Diventa veramente difficile Perciò progettare per noi è Mettersi a sedere E andare a studiare Tutte le complessità del mondo in cui viviamo Per trovare soluzioni migliori Per cambiare il mondo Oggi le soluzioni migliori Lorenzo sono Quelle che tengono presente la sostenibilità Insieme a che cos'altro? Facilmente se guardiamo Ora se semplifichiamo un attimo Questo concetto Le direi che Le soluzioni migliori Sono quelle Che abbracciano Un approccio sistemico Perciò che cercano Di tenere insieme Sostenibilità Impatto ambientale Impatto economico E impatto sociale Cioè cercare di portare Dei cambiamenti positivi Sulle tre aree In maniera però interconnessa Certo E ci riescono le aziende Dopo quanto tempo Solitamente Secondo la vostra esperienza Quanta progettazione serve Per scavallare Diciamo per avere anche Una Quell'abbassamento della curva Per entrare in quel In quel mood Che produce anche Come sta dicendo lei adesso Degli effetti benefici Sia dal punto di vista sociale Che ambientale Ci vuole molto tempo E soprattutto le aziende Devono avere coraggio E sapere Che serve del tempo Che è indirettamente proporzionale A quanto sei coraggioso A quanto credi In quella progettazione Perché tante aziende Vogliono spendere Poco Da punto di vista economico Poco tempo Poco tempo Poco tempo dei dipendenti Poca energia Poca energia E avere un'ottima comunicazione E diventerà addirittura Un caso studio Cioè che gli altri parlino di te Cioè quello è proprio Il massimo E invece ci sono aziende Che partono in maniera Più ponderata E partono dall'interno E cominciano a cercare di capire Perché Qual è lo scopo Per il quale loro Stanno al mondo E allora è lì che si riesce Secondo me a lavorare Partendo dal basso Cercando di capire come La comunità aziendale Che sia un'azienda Che sia una pubblica amministrazione Che sia una fondazione Tutti i brand Riescano a progettare Secondo i propri principi Secondo i propri scopi È molto interessante Un po' È come per le persone No? A volte si pensa Che si possa cambiare Dando un'immagine diversa di sé Cambiandosi vestito Cambiando look Mettiamola così Però in realtà Abbiamo notato proprio In coincidente della pandemia Che guardarsi dentro Probabilmente E lavorare su di sé All'interno Forse è più importante Per un cambiamento reale Sembrano banalità Però insomma Sulle aziende Si possono trasferire Anche queste pratiche Sembrano banalità Perché poi sembrano Quelle frasi fatte Che riempiono i manifesti Da anni Però poi ci si accorge Che le persone Sono la vera risorsa Che le aziende hanno Soprattutto in un momento Di cambiamento Come il post covid E tutto il concetto Che si ha Non solo del posto fisso Ma proprio dell'ambiente Del luogo di lavoro Dove si vive Le aziende rischiano Di perdere i dipendenti Perché non sono coerenti Tra quello che Lanciano fuori I messaggi che esternalizzano Sui loro report Di nostra sostenibilità E le pratiche quotidiane Che fanno In quel gap Si crea tutta la voragine In cui perdi i dipendenti In cui perdi Affiliazione In cui perdi reputazione E in cui poi si creano Quelle forme di greenwashing O social washing Che spesso si vedono Che oggi Diciamo Sono maggioritarie Dal punto di vista Del rischio Se si vuole affrontare Superficialmente Senza progettazione Per esempio Un cambiamento Si va verso Anche contro le proprie intenzioni Si va però Verso il rischio Di un greenwashing Di un social washing Si spesso nasce Anche da degli approcci positivi Cioè l'azienda Sbagliando Decide di cavalcare Dei trend già esistenti Ma in verità Se questi trend Sono arrivati a tutte le aziende E soprattutto anche A città Medio piccole Come Prato Allora vuol dire Che quel trend È già saturo È già in fase discendente Molto interessante Intanto Dopo le dovremo pagare Almeno un caffè Per questa consulenza Perché insomma È una consulenza gratuita Già importante Come approccio Senta Medio piccole Lei vive spesso a Parigi Ultimamente Poi insomma Ha girato il mondo Parigi è una metropoli Qual è la differenza Con Prato Spesso si dice O Firenze Insomma Magari ne parliamo un attimo Spesso si dice Ah La provincia italiana Anche quella Con città grandi Come Prato Medio Grandi Rispetto al tema italiano Di 200 mila abitanti In questo caso 400 mila Firenze Vogliono essere città Però rimangono paesone Lei prima ha parlato Del centro storico Ecco però Visto da una metropoli Dove lei vive spesso Come si vive In queste città Della Toscana Si vive bene Si vive nettamente bene Io vedo Prato affaticata Ma si vive bene E io amo la provincia Ho scelto di comprare casa Comunque a Prato In piazza Mercatale Proprio nel centro storico Di Prato Si vive bene E io su questo Ho molte contraddizioni Perché la metropoli Come è Parigi Ma come è Milano Ti riesce a dare Degli spunti E dei collegamenti Dei ponti E soprattutto riesce a dare Un supporto alle proprie idee Nettamente maggiore Quello che a me manca di più Quando sono a Prato È riuscire a creare Delle connessioni tali Da mettere a terra Delle idee Che mi entrano in testa Invece in alcune metropoli Riesci a trovare Più facilmente Terreno fertile In cui lanciare Sassunia della tua idea E iniziare a costruirlo Trovare spunti Per cambiare la propria idea Effettivamente Prato Su alcuni settori Se devo vederla Dal mio punto di vista È una città Che ha pochi spunti Ma non è Prato È la provincia italiana Perché poi C'è anche una scientificazione Di queste aziende O di determinate professioni Su Milano e su Roma E questo secondo me È un po' sofferente Perché comunque Si va verso il centro Dalla periferia Verso il centro Si va verso il centro E dove si muovono La finanza e l'economia Però poi alla fine Ci si accorge Che a Milano Non si vive poi così bene Oppure tante persone Vengono via da Milano Da Milano come da Parigi Certo, certo Da alcune metropoli Perciò si vive bene In provincia si vive bene E infatti è quello Che su me in Francia manca La rete di piccole città Che abbiamo in Italia E di cui tanto ci lamentiamo Ma che su me Ci dà quella diversità E quella buona vita Che in altri paesi Non si hanno Senta Ha introdotto dei temi Molto interessanti La rete Innanzitutto le chiedo Lei si informa? Come si informa? Legge sul cellulare? Compra i giornali? Credo proprio di no Ormai insomma Li comprono in pochi giornali di carta Mi farebbe piacere Se lo comprasse Sarebbe un gesto Quasi vintage ormai Però lo chiediamo spesso I nostri aspetti Come si informa? E se ha notato Delle differenze Anche in ultima fase Della sua vita Rispetto a come si informano Negli altri posti Cioè Influiscono I media influiscono Secondo lei Meno O di più Sulla vita delle persone? Allora Mi informo Quando posso Leggo giornali di carta In Francia Ascolto la radio Perché mi aiuta a imparare Il francese Sempre meglio Me lo metto negli orecchi Qualche podcast Un po' di radio Perché è una lingua Parlata in maniera corretta Alla radio E questo mi aiuta Mi informo Su internet Più o meno Come tutti Al bar Mi piace sfogliare i giornali Infatti il covid Quando sono spariti i giornali È stato un disastro È stato un disastro Sono d'accordo È stato un disastro Mi informo principalmente Sulle testate giornalistiche online Mi informo anche parlando Perché avendo noi Una rete di collaboratori Europei Nel mondo Nel mondo L'Africa Ma in molte zone italiane Arrivi a fine serata Che Prendete anche solo Aver parlato di attualità Con i propri colleghi E collaboratori Non vuoi più vedere una notizia Se arrivi veramente A un burnout Di informazioni Se c'è una cosa che manca di più Della leggere i giornali È sicuramente il confronto Questo sono Sono d'accordissimo Con lei Ci si informa molto di più Confrontandosi Anche perché poi Attraverso appunto I diversi punti di vista Si applicano anche Pensieri diversi Questo è molto interessante Senta Lei prima Ha parlato di come si informa E sentivo che parlava di podcast Facciamo una divagazione Sul local impact So che avete Avete già inaugurato E avete appunto In ponte Di fare altre azioni Rispetto anche Al podcast Con local impact Cosa fate? Si Quando abbiamo lanciato Soprattutto questa Metodologia di progettazione Con cui aiutiamo le aziende E i brand a progettare Abbiamo costruito una community L'abbiamo chiamata La community del brand activism Ovvero dei brand attivisti E questa community Ha al suo interno Professioniste e professionisti Che ci aiutano A progettare Su temi specifici Perché non siamo Dei tuttologi E non possiamo andare Dalle aziende Accusandole Di non progettare Trattando tutto noi Perciò abbiamo Delle ottime professioniste E degli ottimi professionisti Precisamente verticali Su alcuni temi Abbiamo realizzato Un podcast Che si chiama Proprio brand activism Sono uscite le prime Tre puntate E' stato un viaggio Divertente Perché per me Era la prima esperienza Si può ascoltare su spotify Si può ascoltare su spotify Come il nostro podcast Del resto Esatto E sono uscite le prime tre puntate Abbiamo principalmente affrontato Una domanda Cosa le aziende Devono fare Per affrontare Un determinato tema Con Giovanni Mori Ex portavoce nazionale Di Friday for Future Abbiamo parlato di ambiente Con Azzurra Rinaldi All'entrata Che ti permetto di entrare Che ti permetto di entrare E poi usciranno altre tre puntate Non sono ancora uscite pubblicamente Le lanceremo Nelle prossime settimane Ci sarà Sumay Abdelkader Di Milano Che è un'esperta Di diversity inclusion Sui temi culturali Uscirà Francesca Cavallo Che è abbastanza famosa Per i suoi best sell Sui bambini Parleremo con lei Di diritti civili E poi con Teresa Govino Parleremo di ambiente Sostenibilità e turismo Legato alle aziende Quanto siamo avanti Nel fare rete E nel fare cultura Perché questo è fare cultura Quanto siamo indietro Nei termini Perché Lei ha parlato Appunto Di attivismo Ma In Italia Lo vediamo in questi giorni L'attivismo È una parola di sinistra L'attivista Si dice Di una delle candidate Per esempio Alla guida Del Partito Democratico Invece Cioè L'attivismo Non so Nel mondo È concepito così Come una parola Allora L'attivismo È una parola di sinistra In alcuni paesi È una parola vietata È un'azione vietata Quando noi Noi abbiamo dei consulenti Dei collaboratori Tra Dubai E Abu Dhabi Hanno visto la nostra metodologia Hanno detto È perfetta Vogliamo portarla Negli Emirati Noi abbiamo detto Cerchiamo di capire Perché Non in tutti i paesi Non in tutte le città Non in tutte le aziende Non con tutti gli sceghi Però Può essere Una formazione importante E mi hanno detto L'unica cosa È che dovete cambiare il titolo Perché qua L'attivismo È illegale E io ho detto No grazie Possiamo non lavorare Negli Emirati Perché secondo me È importante Dare Anche nuova vita A certe parole Cioè Non perdere Quello Dell'attivismo Che è stato fatto Fino ad ora Però per forza Allargare le maglie Dell'attivismo Essere Un attivista Al dire essere attivo E Credere in alcuni temi E agire Perciò mettere a terra Delle azioni Per provare a cambiare qualcosa Fino ad oggi Le aziende Non potevano essere attiviste Perché Io Da quando Più di dieci anni fa Sono arrivato In questa regione L'ho vista Fare Insomma Anche assieme Ai suoi collaboratori Tante azioni Anche insomma Che riguardano le aziende Ma non solo Anche le persone Però sempre Con questo filo rosso Dell'attivismo Qual è la cosa Che le ha dato più soddisfazione In tutti questi anni Fare Una domanda difficile È una domanda difficile Forse La cosa che mi ha dato più soddisfazione È vedere Di non aver perso Network E sostenitori E per sostenitore Non intendo dei tifosi Intendo I collaboratori O gli amici Con cui continuo a progettare Anche nei momenti In cui ho sbagliato Tantissimo Cioè Progetti fatti In maniera Con errori grossolani Insuccessi Fallimenti Che non hanno colto l'obiettivo Che non hanno colto l'obiettivo E anzi Che ti hanno fatto sembrare Anche un po' stupido Quando poi le riguardavi Dopo qualche anno Ecco Secondo me Essere sempre stato Trasparente E avere uno scopo Estremamente definito Questo mi ha permesso Di continuare A chiamare Al telefono Amici e amiche Per dire ho un'idea E nessuno mi riattacca E questa forse È la cosa di cui Io vado più fiero Questo è bellissimo La pensa anche lei Come c'è un dibattito In questi giorni Anche sui giornali I fallimenti Andrebbero inseriti Nei curriculum In questo caso Che è plurale I fallimenti progettati Sono belli da raccontare Esatto Perché fai vedere Che c'era una progettazione Sbagliata Ma che alla base C'era una progettazione E non penso sia un problema Raccontare i fallimenti Anzi Possono aiutare anche A capire Rispetto ad un obiettivo Qual è stato L'errore Nel cercare di raggiungerlo Con certe modalità Ieri Ho fatto una chiamata Con un'azienda di Milano Per cui stiamo partecipando A una gara Per un grosso player italiano Per aiutarli A fare una nuova strategia Di cambio di governance Per diventare una B Corp E loro mi hanno chiesto Come facciamo A non essere troppo arroganti Ma allo stesso tempo Dire che Alcune cose Che loro pensano Sono sbagliate E gli ho detto Raccontiamo i nostri fallimenti Arriviamo in riunione E raccontiamo Tutti i nostri fallimenti L'avete fatto E no Lo stiamo scrivendo Perché la riunione Sarà fra un paio di settimane Arriviamo lì E raccontiamo i fallimenti Raccontando i nostri Criamo un livello Di empatia maggiore E gli facciamo vedere Che si può progettare Partendo dagli errori Ma è molto interessante Magari ci viene A raccontare Come è andato a finire Senta Io le vorrei chiedere Tantissime cose Però il tempo A nostra disposizione Sta per concludersi Appena Sforiamo Perché vorrei Prima parlato Di tifoserie Insomma Ci sono anche i tifosi Non solo i sostenitori Avete cominciato Questa avventura Col Prato Social Club Lei Insomma È protagonista Di molte Delle belle cose Che sono successe In questa città Diciamolo sinceramente Adesso sta proseguendo Con una fusione Come sta andando Ecco Quello è il motivo Per il quale io Si parla di calcio Esatto Si parla di calcio Un motivo importante Esatto Quello è uno dei motivi Per il quale io leggo Più giornali possibili Cercare i trafiletti Che stamattina Mi sono fregato al bar Ho trovato il trafiletto Sulla prima squadra femminile Sì È un bel progetto Diciamolo La prima squadra femminile Del Prato Social Club Che adesso si chiama CSL Prato Social Club Esatto Perché abbiamo fatto la fusione Con il Coriano Santa Lucina È stata una fusione Difficile Abbiamo Io e Niccolò Tabani Prato Social Club Abbiamo dialogato Con Roberto Macri Ex presidente Coiano Santa Lucina E tuttora presidente Del CSL Prato Social Club Ma anche di questa televisione Esatto Abbiamo avuto ospite Esatto Che conoscete bene Sono stati Sei, otto mesi Di discussioni Di incontri Di cavilli Cioè sembrava veramente Una fusione Tra società Molto più grandi Però era importante Mettere a terra Due visioni del calcio Più o meno diverse La tradizione Con l'innovazione Esatto È un progetto importante Siamo contenti Perché è un progetto Che unisce il calcio Al sociale Stiamo andando bene Anche dal punto di vista sportivo Abbiamo più di 250 atleti Le squadre stanno correndo Per entrambe Per la promozione Perciò insomma Siamo contenti Prima squadra maschile Prima squadra femminile Perché insomma Anche quello per noi È stato un investimento importante Senta Visto che lei porta molto Della Toscana E di Prato In Africa In altri posti del mondo Non ci dilunghiamo A raccontare la sua vita Ma insomma Sarà molto interessante A Parigi Negli ultimi tempi Visto che già Cosa porterebbe Dell'Africa A Prato O di Parigi Per esempio A Prato In Toscana Ma allora Di Parigi Non troppo Devo essere sincero Non so cosa porterei Perché Parigi alla fine È una città Con troppe persone Almeno una baghezza A Porto Sì 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 Qualche croissant Un po' di pasticceria francese Però è È una metropoli Anche quella Molto faticosa Perciò non so Cosa porterei Vorrei continuare A essere un po' Campanilista Sulla provincia Toscana E mi trarrelle Città come sono Anche perché insomma Lì a Parigi Visto A proposito di Sheik Non c'è il Prato Social Club C'è il PSG Che insomma È proprio invece Il culmine Di quell'altra filosofia No? Un po' Diciamo sinceramente Con poco Poca attenzione All'impatto sociale Questo lo dico io Sì sì No ma anche Con poca attenzione All'impatto ambientale Esatto No 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 Esatto esatto Mentre dal territorio africano Porterei Porterei veramente La vitalità Di Riuscire ad affrontare I problemi Cioè forse Il lungo tempo La visione di lungo tempo Che si ha Anche se si pensa Al contrario Si pensa che le persone In Africa Vivono alla giornata Non è vero Io stavo per dire Io avrei pensato Il contrario In che senso? No no Non è vero Non è vero Perché si ha Seppur nella complessità E nelle condizioni Spesso di povertà Anche se Dobbiamo Dell'Africa Uscire anche da questo concetto Di pensare Siamo un continente povero Perché poi insomma Ci sono metropoli africane Che stanno crescendo Veramente a dismisura E città satelliti intorno Però si ha veramente Una voglia Di crescere E c'è una voglia Di crescere Anche dei nostri coetani Che si trovano In situazioni difficili Ma Hanno un'alimentazione Delle idee Estremamente forte E questo vuol dire Che si ha una visione Far crescere le idee Vuol dire avere visione A lungo termine Perché quando poi Ci si deprime E non si dà spazio All'idea Alla curiosità Allora È lì che si pensa Veramente alla giornata Con un croissant E una visione A lungo termine Dei nostri coetani africani Ringraziamo tantissimo Lorenzo Giorgi Veramente di aver discusso Con noi Spero che potrà tornare Perché è sempre Molto interessante Magari Una di queste volte In cui succede qualcosa In Francia Abbiamo letto prima Questa notizia In realtà È legata al Bata e Clam Purtroppo questa è una cosa terribile Però magari una volta Ci piacerebbe collegarci Con lei Anche Quando è da quelle parti Grazie di essere stato con noi Grazie ai nostri spettatori Che ci hanno seguito Vi ho già annunciato L'ospite che ci sarà domani Qui il presidente della provincia Simone Calamai Vi do appuntamento Per l'appunto domani Con prima di tutto Questo programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato Scopri vantaggi di essere socio Nigro Costruzioni Creiamo spazi Costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it Per l'appunto domani Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori